Sono tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno tenuto a ribadire in prima persona il loro sdegno per quanto accaduto alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi. L'hashtag G Suite Charlie ha spopolato sui media, scritto e esposto da migliaia di utenti, famosi e nonno. Quando la gaffa è di un volto conosciuto, però è inevitabile che faccia notizia. Lo sa bene Marina Ripa di Meana, che su Twitter ha voluto pubblicare un set di foto, tutti con la scritta G Suite Charlie su un foglio ben visibile e anche con la comparsa negli ultimi due scatti dei cani della stilista. Peccato però che la scritta sia palesemente errata. Marina Ripa di Meana infatti ha scritto G Suite Charlie mettendoci una E di troppo, come fa notare Selvaggia Lucarelli sempre su Twitter.